La Fiorentina ha il logo, il simbolo del Meier sulla sua maglia e siamo sicuri noi del Meier che quando avrà questo simbolo farà di tutto per vincere la partita perché non ha un elemento in più. Però voglio dire che anche noi abbiamo il nostro campionato, anche noi abbiamo le nostre partite e per noi la nostra partita è vincere la malattia. A volte è un avversario ben organizzato, un avversario molto forte, vincere quella partita come vincere per la Fiorentina una partita contro un avversario molto forte, per noi è lo stesso spirito perché nel Meier è l'armonia, il lavorare insieme e rispettare i reciproci ruoli, l'ascoltare il nostro allenatore, il direttore generale, il capo del palco, tener di conto anche per chi ha un ruolo più marginale apparentemente, quindi valorizzare il ruolo di tutti, delle infermiere. I nostri tifosi sono i gettori che sono lì accanto ai loro figli per vincere questa grande notte. Ecco questi stessi valori noi li abbiamo vissuti in Rocco Commissio quando è venuto a trovarci. In quella occasione si sentiva palpabile il bambino dentro che ha Rocco Commissio, perché Commissio è un bambino. E si è visto come riusciva ad attivare l'attenzione, il gioco con i bambini, anche con malattie gravi e importanti. Si è vissuta la sua convinzione, si è vissuto proprio lui bambino. Grazie. Grazie